Lega Nord contro Cecil Chiang. Sono ormai un tormentone le esternazioni degli esponenti del carroccio contro la ministra dell'integrazione. L'ultima provocazione del vice segretario Matteo Salvini che lancia l'idea di una consultazione popolare per abolire Tukur, il ministero della Chiang. Un ente inutile e costoso, una fabbrica dell'ipocrisia? Secondo voi la Lega trova 500 mila cittadini pronti a firmare un referendum che abolisca questo ministero? Così scrive su Facebook Salvini, post graditissimo ai suoi seguaci che si scatenano con i commenti. Nessuna nuova offesa sfondo razziale, ma la proposta dell'eliminazione politica della ministra fa levare voci di indignazione. Il PD Lombardo risponde ricordando gli sprechi dei ministeri del Nord. Stiamo ancora aspettando che la Lega spieghi lo sperpero di denaro pubblico per le famose sedi ministeriali alla Villa Reale di Monza, quelli sì veramente inutili, scrive il capogruppo del PD in regione Alfieri. A Salvini replica anche la diretta interessata. Sarebbe più utile utilizzare i soldi che si spenderebbero per un referendum per mettere in campo politiche e interventi per un'integrazione che riguardi tutti i cittadini, non solo gli stranieri. La tensione torna così a salire dopo che ieri durante la trasmissione in onda Umberto Bossi aveva ammesso la ministra è stata trattata male, se la incontrassi le stringerei la mano. Le scuse e pubbliche la Chiang invece le avrebbe volute da Maroni e non sono mai arrivate. Arriva invece nel pomeriggio la contro-replica di Salvini alla ministra. L'integrazione, quella vera, scrive il vice di Maroni in una nota, la fanno i sindaci e gli amministratori della Lega impegnati ogni giorno sul territorio nonostante i tagli del governo di Roma e non un ministero ipocrita.